Inter Napoli 3 a 2 Inter batte Napoli una partita interminabile lo capirete probabilmente anche dalla mia voce che è finita i gol di Zieninski Cialanoglu sul rigore Perisic Lautaro Martinez e poi il gol di Mertens alla fine a rimettere in bilico tutto a farci vivere la partita veramente con il cuore a duemila fino all'ultimissimo minuto anzi fino ai tempi supplementari perché 90 minuti più 8 di recupero che non finivano mai ma l'Inter centra una grandissima vittoria una vittoria fondamentale una vittoria che riapre la corsa allo scudetto una grande vittoria in un big match cosa che c'era mancata che stavamo chiedendo a quest'Inter di Simone Inzaghi e arriva con una prestazione che al netto dei minuti finali delle difficoltà finali è stata anche una prestazione molto importante molto convincente che secondo me ha ribadito per l'ennesima volta chi sono i campioni d'Italia perché siamo campioni d'Italia e perché per questo scudetto dovrete fare i conti anche con noi interisti vittoria molto importante prestazione convincente adesso la analizziamo ma prima vi leggo i voti nelle pagelle del nostro Lorenzo della Savia che dalla redazione assegna un 6 a Samir Andanovic devo dire che Andanovic si è ripreso a me non ha fatto impazzire stasera i due gol forse poteva fare qualcosina meglio un'uscita non uscita anzi che rischiava di complicarci le cose ad un certo punto della partita ma poi alla fine si inventa una parata che vale di fatto il risultato probabilmente neanche lui sa come è riuscito a mandarla sulla traversa e poi finisce alto sopra c'è comunque anche il suo zampino nel risultato finale Skriniar voto 6 e mezzo un paio di ingenuità nel finale con un paio di calci di punizione concessi un po' pericolosi però di fatto se Osimen fino al suo fino a che è stato in campo non si è visto è merito anche di Skriniar così anche così come di Ranocchia che ha fatto una bellissima partita eh c'erano tanti commenti ingiusti secondo me nei confronti di Andrea Ranocchia prima di questa partita che per l'ennesima volta si è dimostrato essere un professionista esemplare e quindi si merita ancora una volta la menzione d'onore in questa partita Andrea Ranocchia 6 e mezzo veramente bravo eh per eh appunto eh soprattutto perché trovava di fronte un attaccante molto forte molto pericoloso come Osimen eh Bastoni voto 6 e mezzo soprattutto nel finale ha fatto un paio di chiusure molto importanti secondo me che gli fanno salire il voto Darmian prende 6 e mezzo io forse Darmian avrei dato anche 7 in realtà mi è molto piaciuta la prova di Darmian soprattutto nel primo tempo soprattutto quando la partita è stata più in bilico quindi io a Darmian darei anche un 7 perché è stata una delle chiavi del del vantaggio che abbiamo accumulato nel primo tempo e della prestazione convincente del primo tempo secondo me perché eh sapevamo che per vie centrali sarebbe stato difficile attaccare Koulibaly e Rachmani quindi bisognava attaccare tra il centrale ed il terzino e gli inserimenti sempre puntuali di Darmian sono stati veramente preziosissimi eh Barella prende 6 e mezzo io voglio sapere se voi siete d'accordo io personalmente oggi ho visto un Barella molto stanco e eh un suo errore purtroppo ha dato il via al primo gol del Napoli quindi oggi a me Barella non ha fatto impazzire fermo restando la grande fermo restando la grande generosità di questo calciatore che nel momento in cui è uscito abbiamo perso veramente il controllo del centrocampo e non può essere un caso però di sicuro secondo me ha bisogno di di riposo questo Barella perché è stato spremuto anche in nazionale però nessuno può farne a meno evidentemente. Gagliardini voto 6 non lo so non lo so a me Gagliardini non è molto piaciuto e o comunque non ha inciso molto. Brozovic voto 6 secondo me il voto eh del nostro Lorenzo è un po' stretto su Brozovic per me nel primo tempo soprattutto è stato tra i migliori in assoluto ha fatto delle chiusure intelligentissime poi nel secondo tempo quando Zieninski è stato messo a uomo su di lui eh si è un po' perso ma a me la prestazione di Brozovic è molto piaciuta c'è la nuova gruppa addirittura sette e mezzo preziosissimo ancora una volta glaciale dal dischetto all'interno di una prestazione di nuovo positiva che conferma la crescita che sta avendo questo calciatore che può e anzi si merita oggi di essere titolare in quel ruolo Vidal voto sei forse gli avrei dato cinque e mezzo un paio di buone chiusure ma tanto nervosismo Perisic voto sette per me Perisic tra i migliori in campo in assoluto forse anzi il migliore in campo per me oggi eh avrei nominato Ivan Perisic personalmente prestazione assoluta alla lunga è venuta fuori davvero leader gol da attaccante puro di testa ad anticipare sul primo palo e e e poi soprattutto alla fine ha fatto anche l'attaccante grande grande eh giocatore veramente Ivan Perisic sta facendo una eh stagione spettacolare Correa sei e mezzo buona la partita di Correa e soprattutto ha fatto un'azione spettacolare in occasione del gol di eh Lautaro Martinez Lautaro Martinez che prende sei e mezzo gli darei anche un sette perché a me la prestazione di Lautaro Martinez è piaciuta anche a livello difensivo si è dato molto da fare e poi il gol è stato molto importante e soprattutto mi è piaciuto molto come ha segnato quel gol un gol da grande attaccante e come ha sultato dopo il gol andando a scusarsi con la curva di fatto a chiedere scusa diciamo per il periodo dell'appannamento e per il rigore sbagliato nel derby qui eh giustamente Stefano Cardinale in chat mi ha fatto eh mi ha sottolineato un cambiamento che c'è stato rispetto alla scorsa stagione quando segnando contro il Napoli proprio contro il Napoli guardate un po' corsi ricorsi storici il eh il Toro aveva esultato facendo i discorsi del bla 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 perché c'erano tante voci di mercato e invece un campionato dopo anche a testimoniare la crescita di questo calciatore Lautaro che è stato sostenuto dalla curva con tanti cori prima della partita segna e va a esultare scusandosi per il periodo d'appannamento e l'errore dal dischetto nel derby e ringraziando i tifosi per l'appoggio grande gesto da parte di un calciatore dal quale ci aspettiamo una grande crescita a livello di leadership e sono convinto che potrà farla soprattutto in tandem con Correa quando i due saranno titolari eh oggi eh sono partiti dal primo minuto hanno fatto bene meno bene Dzeko che prende sei forse avrei dato anche cinque e mezzo soprattutto perché perde un pallone sanguinosissimo che porta al tre a due del Napoli e quindi gli avrei dato una leggera insufficienza Di Marco voto sei entrato nel finale ci sta come voto non ha avuto modo di incidere in maniera particolare questa è la valutazione del nostro Lorenzo della Savia ho aggiunto anche delle mie considerazioni adesso vi dico che partita è stata secondo me che cosa abbiamo visto e e poi chiudiamo con un paio di considerazioni vi faccio vedere la classifica la prima grande occasione della partita è stata al settimo minuto con Lautaro Martinez che di testa è andato ad anticipare eh addirittura Coulibaly e per poco non ci porta subito in vantaggio purtroppo non è riuscito a centrare la porta e quindi poco dopo come spesso capita gol mangiato gol subito al diciottesimo minuto Barella perde un pallone sanguinosissimo il Napoli in tre passaggi arriva in porta Zienischi gran tiro forse Andanovic poteva fare un pochettino di più e eh il Napoli va in vantaggio eh buona occasione poi per Skriner che di testa però non riesce a metterla in porta quindi al venticinquesimo momento di svolta un pallone parato col braccio da Coulibaly porta al calcio di rigore per l'Inter trasformato da Akan Cialanoglu glaciale dal dischetto al trentaquattresimo il Napoli sfiora il raddoppio con Osimen murato poi da Skriner il momento del tiro quindi l'Inter comincia a venire fuori tiro di Lautaro Martinez che finisce fuori Barella e Correa che vengono respinti e alla fine al quarantaquattresimo un calcio d'angolo trasformato da Ivan Perisic eh di testa e eh un Inter che nel primo tempo ha creato tanti pericoli andando a pressare alto il Napoli e che per l'ennesima volta trova il gol su calcio d'angolo dicevo durante la partita non so se ci avete fatto caso quest'anno che non facciamo più tanti schemini passaggini sui calci d'angolo eccetera ma la buttiamo in aria ci scappa quasi sempre il gol quasi un gol a partita quindi forse eh si poteva fare anche prima o comunque il fatto di avere Cialanoglu e Di Marco che hanno questo bel piedino sta portando qualche gol in più veramente molto molto pesante nel secondo tempo il secondo tempo è partito subito rapidissimo c'è stata una grandissima giocata di Perisic oggi mi è piaciuto ancora veramente clamoroso anche oggi di Tacco fa tunnel di Lorenzo triangolo Cialanoglu Lautaro Martinez va al tiro parato da eh Ospina grande parata ritmi molto alti la partita poi si ferma per diversi minuti per un durissimo scontro tra Osimen e eh Skriniar di testa tra l'altro facciamo un grosso in bocca al lupo ad Osimen che ha riportato questo problema all'occhio speriamo davvero che non sia nulla di grave gli auguriamo un pronto rientro e e lì è costretto ad uscire la partita riprende subito gara che diventa molto ritmata squadre lunghe eh che attaccano da una parte dall'altra il centrocampo di fatto viene quasi sempre saltato grande giocata al sessantesimo Correa fa un'azione stupenda eh con i tempi giusti spingendo il contropiede allarga per Lautaro che col destro eh eh riesce a beffare Ospina sul secondo palo gol da eh grande attaccante poi arriva il gesto di Lautaro Martinez da lì l'Inter sembra in controllo anzi fa una grande partita i cambi però cambiano un po' la partita perché quando esce Lautaro Martinez il Napoli inserisce invece Mertens e del Massi il Napoli si alza monto l'Inter dà un po' l'impressione di aver rinunciato ad attaccare probabilmente il Napoli ne approfitta si alza l'Inter soffre e sull'errore pesante di Edin Gia correva il tre a due di Mertens che riapre completamente la partita e nel finale sul tre a due può succedere veramente di tutto però come ho detto anche in diretta quando succedono episodi come la parata di Andanovic con il pallone che sbatte sopra la traversa mi ricordava un po' d'Ambrosio in quel famoso inter-Empoli da psicodramma dei minuti finali eh è un po' un segno Mertens poi che sbaglia anche un gol clamoroso da dentro l'area di rigore sono tutti segnali anche perché poi l'Inter va anche vicino al quattro a due con Dzeko e non riusciamo però a chiuderla quindi in definitiva prestazione secondo me ancora una volta incoraggiante che si inserisce nel solco tracciato da eh Inter Juventus in poi di un Inter in crescita che sta acquisendo consapevolezza che ha allungato la profondità della rosa perché oggi abbiamo visto che anche Correa è sicuramente credibile come titolare al fianco del nostro Lautaro Martinez su Lautaro Martinez che si sblocca e questa forse è la notizia più importante di serata insieme a Ciaranoglu che si che si conferma ad alti livelli eh la classifica in questo momento vede il Napoli in vetta trentadue con il Milan e l'Inter che si riporta sotto a ventotto e un Inter che adesso ha una serie di sfide davanti che eh possono portarci ad acquisire diversi punti possiamo portare molto fieno in cascina nelle prossime gare e quindi cosa c'è da dire ragazzi abbiamo vinto una grande partita eh il Napoli che fino a qui aveva subito quattro gol in campionato oggi ne ha subiti tre contro una grande Inter che si dimostra eh sicuramente una squadra che per me lotterà fino all'ultimo per questo scudetto e chi lo sa in nella giornata in cui cade il Milan cade anche il Napoli l'Inter riparte potrebbe essere questa la svolta della stagione o comunque di sicuro l'Inter eh si sta confermando squadra credibile e eh che potrà lottare per lo scudetto queste sono le mie sensazioni al di là di qualche eh sostituzione che non ci ha fatto impazzire è un Inter che c'è siamo una squadra forte siamo una grande squadra adesso andiamoci a prendere anche gli ottavi di Champions che ci daranno qualche soldino in più che sicuramente faranno come magari ci daranno qualcosina anche dal mercato a gennaio e soprattutto ancora più convinzione nei nostri mezzi ci siamo ragazzi ci siamo 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 forti fatemi sapere se siete d'accordo con me se siete d'accordo con i nostri voti e con i nostri giudizi scrivetecelo nei commenti vi ricordo www.passioneinter.club per entrare a far parte del club interista online vi aspettiamo come ogni lunedì poi diretta esclusiva alle ventidue per commentare tutto il calcio e non solo ci vediamo sul club di Passione Inter Grazie a tutti